Se non siete iscritti mi raccomando ragazzi iscrivetevi al canale per non perdere nessuno dei miei video Inoltre lasciate un bel mi piace, cerchiamo almeno di arrivare a 400 mi piace per continuare questa serie Dobbiamo chiamarla così, di unità stravaganti che possiamo utilizzare scaricando le missioni utente Adesso andiamo a vedere un carro da 1000 tonnellate Il carro armato che vedete sarebbe potuto diventare, qualora fosse stato terminato dai tedeschi Il più grande supercarro pesante della storia 1000 tonnellate di carro, 5 volte il peso del mouse Praticamente un carro leggermente devastante Come potete vedere possiamo fare anche una piccola comparazione tra questo carro e quei piccoli carri che avete davanti Quello è un M26 Risulta veramente piccolo, vero? Abbiamo l'antiaerea Abbiamo i cannoni anche laterali Ma la cosa che fa più paura sono sicuramente i due cannoni della torretta principale Davvero devastanti, non lasciano scampo a nessuno Questo è un IS-2 Vabbè, siamo vicini Però, cioè Non so se ci stiamo rendendo un attimo conto Se questo carro fosse effettivamente rilasciato domani mattina su War Thunder Io penso che il gioco acquisterebbe un, come dire Avrebbe un divertimento triplicato come minimo Perché il carro è qualcosa di gigantesco Guardalo Addirittura una scala per poterci salire Ma una scala anche piuttosto alta Senti, se io ti sparo lì che succede? Eh, che esplodi! Cioè proprio il carro armato viene demolito in mille pezzi Questa è un'altra unità che possiamo scaricare Che mi avete tra l'altro chiesto nei commenti Per quanto riguarda le unità Eh, delle Più che altro le unità create Eh, dai vari utenti Che si possono scaricare Semplicemente digitando su Google Appunto Eh, custom mission user Quindi avrete tutte le missioni Eh, personalizzate Eh, degli utenti Anzi per essere precisi Dovrete digitare Custom vehicles users Così, eh, troverete tutte appunto le unità Che, eh, sono state create Ieri abbiamo visto l'F14 Oggi vediamo questa bestia di acciaio di mille tonnellate Mi sto leggermente divertendo Anche se, diciamo, sto semplicemente sparando Però, il fatto di utilizzare un simile cannone Oh, ma guardalo Ma è una cosa inconcepibile Ha dei motori piuttosto importanti Per spingere appunto Tale Eh, carro in avanti Ora noi qui siamo praticamente nella missione Che ha creato l'utente E arrivano già i primi colpi da quel lato Ma è poca roba Ci sono quei carri sulla sinistra Che mi fanno il solletico Questi qua Bene o male Mi hanno cingolato Eh no, eh no, eh no E non è che adesso possiamo neanche Ok, colpito Ma Ma che c... Ma mi attaccano ovunque Guarda Non è regolare Tra l'altro L'incendio sembra non... Cioè Se ne frega altamente Continuiamo ad essere operativi Colpito Ma non possiamo riparare con un... No, non possiamo Buono Ascensore munizioni Unità bruciata Sei stato bruciato dall'Enterprise No, tu mi hai ucciso Serio Senti, io posso continuare Anche se sono stato distrutto Eh, mi sa di no Mi sa di sì Ah, compare automaticamente Meno male Perché altrimenti Sarebbe un problema Non lo sapevo ragazzi Sinceramente Che si potesse Spawnare direttamente Eh sì Perché comunque È vero che è vero Però è pur sempre Una nave che abbiamo davanti Anzi Sono due No, mi ha cingolato Vai, vai, vai Spara, spara, spara Eh, vedi Obiettivo distrutto Cosa abbiamo distrutto? La nave È affondata la nave Abbiamo distrutto la nave Con un carro armato Bene Interessante Porca miseria Ti disintegro Di qua tra l'altro Non mi danno fuoco Incredibilmente Eppure sto mostrando La parte quella Che dovrebbe essere Un po' più No, in realtà È così Ok, accettiamo Ma la nave Guardate È praticamente inclinata Sì Una kill per devi La nave finalmente È stata distrutta Dove state Ora voi Con i carri armati Che rompe Qua, qua, qua Ma Fatti prendere Ora tocca Finalmente a noi Ora giochiamo Carri armati Contro carri armati E le cose Non penso che siano Piacevoli Ragazzi La differenza Di dimensione È qualcosa di Sono praticamente Sopra il carro Sono sopra il carro Fantastica Sta cosa Ma che Ma che Succede Ma non è Fossibile Non è Fattibile Sta cosa Nel frattempo L'abbiamo Massacrato Con Aspetta che C'è sempre Questo Tecnicamente Che mi spara Guarda Guarda Buono Abbiamo fatto Piazza pulita Mi verrebbe da dire C'è sempre Questo Qua sotto Ma Lo ignoro Fondamentalmente Quelli sono un po' Troppo lontani Ce ne sono tanti Dobbiamo avvicinarci In realtà Non è la mappa Grande È il carro Ad essere Enorme Siamo praticamente Arrivati In pochissimi Secondi Qualora Non ci fossero Problemi Con i cingoli Che vengono messi Fuori uso Dai bot Vedete Praticamente Mi mette fuori uso Il cingolo E quindi Devo riparare E poi Ricominciare Il mio percorso Però dicevo Si arriva Praticamente Subito Nella città Poi un'altra cosa Che ho notato Effettivamente Il cannone Non è proprio Preciso Anche se Vedete Il tasto verde Dovrete mirare Sempre Un po' Più in basso Perché altrimenti Il colpo Andrà Dove vuole lui Poi con i cannoni Ovviamente Di dietro Il tutto Sarà leggermente Più complicato Però una volta Che avete Riparato Continuate ad avanzare Arriverete A un certo punto Che sarete Talmente vicini Che mancarlo Insomma Ci vorrà Davvero molto Il carro nemico Sono rimaste Poche unità Pochi centurion Poi c'è un po' Di artiglieria Che dà fastidio Adesso si sta riprendendo Il nostro Artigliere Eh sì A questa distanza Diciamo che Non ce n'è per nessuno Su via Non ce n'è Veramente per nessuno Questo No 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 Stiamo riparando E stiamo Ricaricando Manca poco Alla fine Della missione Penso Vai 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 Missione Compiuta Abbiamo Compiuto La missione Semplicemente Distruggendo L'altro Centurion Quindi Non c'è Nient'altro Da fare Anche se Ci sono Altre unità Da distruggere La partita È terminata In questo Modo Ora Realisticamente Parlando Seppur Il carro È un progetto Sapete che Comunque I progetti E quant'altro Vengono aggiunti Nel gioco Dubito Fortemente Che da qui A 5 I 10 Anni Verrà mai Aggiunto Perché I creatori Hanno detto Ragazzi Già il mouse È diventato Obsoleto Perché stiamo Puntando A unità Sempre più Innovative Sempre più Recenti Se desiderate Se mettessimo Il P1000 Sarebbe veramente Non solo Retrocedere Ma sarebbe Ingestibile Dal punto di vista Proprio Di gioco Perché guardate La differenza Ripeto ancora una volta Di dimensioni Tra il nostro carro E l'IS2 Che mi sta Alla mia destra È qualcosa Di imbarazzante Se devo essere Sincero E di non Minimamente Attuabile In nessun modo Quindi ragazzi Se avete piacere Nell'utilizzare Tutto rosso Praticamente Se avete piacere Nell'utilizzare Questo carro Giusto per divertimento E per svagarvi Un po' Dalle solite unità Vi lascio In descrizione Il link Per poterlo Scaricare E ringrazio Anche l'utente Che ha creato Questa divertentissima Missione E che ha avuto L'idea Di creare Il modello Del P1000 Aspetta che faccio Giusto un'altra kill Tac Due ultimissime cose Prima di concludere Se qualcuno Volesse suggerirmi Missioni utente Nuovi veicoli Delle mimetiche Lo scrivesse Nei commenti Oppure mi mandasse Un messaggio E potrei pensare Di farci Un video sopra Un'ultimissima cosa Ragazzi Se qualcuno Fosse interessato A seguire Le mie live streaming Quotidiane Mi trova su Twitch Link in descrizione Potete anche Abbonarvi in maniera Del tutto gratuita Se siete Se avete Amazon Prime Quindi a voi Non costa Assolutamente nulla Ed è un modo Oltre il famoso Mi piace Per supportare Il canale Di Devi Che ormai Naviga Verso I famosi 10.000 iscritti Ragazzi Video terminato Io come sempre Vi ringrazio Per i like I commenti E le visualizzazioni E noi ci vediamo Con un prossimo video Ciao Ciao